La Questura di Crotone ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con l'istituzione di posti di blocco in zone nevralgiche della città e l'impiego di personale delle volanti dell'Ufficio Generale Soccorso Pubblico della Squadra Mobile del Reparto Prevenzione e Crimine di Cosenza. Compressivamente si è proceduto col controllo di 113 veicoli con l'identificazione di 270 persone, tra cui diversi gravati da pregiudizi. Nel corso dell'attività sono state effettuate alcune perquisitioni personali e di autovetture che hanno portato al rinvenimento di sostanza stupefacente che è stata opportunamente sequestrata. Un crotonese di 27 anni infatti è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti 10 grammi di marijuana e 4 di hashish, nonché un coltello a scatto con una lama della lunghezza di 9 centimetri per cui è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e porto illegale d'arma. Inoltre quattro persone sono state trovate in possesso di dossi di cocaina per uso personale per cui sono stati segnalati al prefetto di Crotone quale assuntori. Una donna di 50 anni poi è stata fermata alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica per cui è stata sottoposta da certamenti tecnici essendo stato rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Anche qui si è proceduto al ritiro della patente e al deferimento della predetta all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Sono state rilevate quattro violazioni al codice della strada per cui si è proceduto alle relative contestazioni.